bentornati figliuoli e figliuole di splendide fattezze all'onibin alla seconda puntata extra che quest'oggi sperimenta qualcosa di nuovo e non è così si sperimentiamo sia in realtà un nuovo programma per cercare di registrare con un buon audio nonostante la quarantena ormai ci tenga lontani da due mesi e sperimentiamo anche di poterci finalmente sfogare a casaccio su i Final Fantasy che non ci piacciono perché questo podcast ovviamente è nato dall'amore per un Final Fantasy ma anche in realtà dall'amore per una saga al netto di tutti insomma i pro i contro i alti i bassi però ci siamo detti dai e facciamo un episodio extra di ogni in cui parliamo male dei Final Fantasy che proprio non ci sono piaciuti assolutamente l'altra volta avevamo cercato di spargere un po di positività nel mondo oggi ci concentriamo sulla negatività e ci concentriamo in realtà su uno specifico individuo perché parliamoci molto serenamente voi noi ci lamentiamo molto spesso di Nomura per tutto ciò che ha combinato di negativo e lo elogiamo per quello che ha creato di positivo ma la grande verità è che quando andiamo a toccare i Final Fantasy che ci stanno più sui maroni e non c'è veramente modo di definirli quello che ci ha toccato più nel profondo ci ha toccato in posti dove fondamentalmente non era il caso di toccarci indica sulla bambola dove ti ha toccato motomu Toriyama che allora per farvi capire quanto è un cane Toriyama dobbiamo tornare molto indietro dobbiamo tornare alla primissima puntata del nostro podcast quello in cui vi parlavamo del team ragazzi perché oggi vogliamo approfittarne anche per fare una piccola correzione legata ad alcuni dati non completi che vi avevamo dato perché quando avevamo parlato del team vi avevamo parlato di quello che aveva fatto il cui nome ora non mi sovviene perché sono un vecchio rincoglionito ma va bene così di colui che aveva fatto i minigames che era questo sviluppatore che aveva fatto un GDR da solo e allora Sakaguchi l'aveva inserito in team e aveva programmato la gran parte dei minigame ma quello che non vi avevamo detto che il minigame che ci stava più sulle balle quello peggiore di tutti quello del sottomarino non l'aveva fatto questo povero cristo ma l'aveva congegnato proprio Motomu Toriyama che era su Final Fantasy 7 già un event planner se ci pensi è un po' come quando ti chiedi ma se potessi tornare indietro nel tempo e uccidere Hitler bambino lo faremo se potessi tornare indietro nel tempo e legare Motomu Toriyama lo faresti? sì ma lì non abbiamo colpe però Eleonora perché parliamoci seriamente no? viene fuori Final Fantasy 7 capolavoro assoluto Toriyama fa il sottomarino lo devi legare subito è chiaro non dovevi fermare subito chiunque l'avrebbe capito e invece lo hanno spinto perché avevamo parlato del fatto che Kitase forse non ne avevamo trattato questa cosa ma Kitase fondamentalmente è una persona che non è particolarmente capace quando si tratta di comprendere il talento altrui e Toriyama l'ha proprio preso sotto la sua ala e lo ha spinto per anni come potenziale director quindi questa cosa questi Final Fantasy di cui parleremo oggi sono in larga parte colpa di Kitase che ormai che più vado avanti ad analizzare questa cosa più mi rendo conto che forse sono più le cose brutte che ha fatto di quelle beh no, non è vero, non è vero continuo ad amare Kitase perché ciò che ha fatto è stato meraviglioso però mamma mia molte delle sue azioni hanno portato a dei risultati tutt'altro che meravigliosi perché Toriyama e io ne avevo parlato oddio, non so se ne avevo parlato anche nel podcast o nei miei live come al solito la memoria mi sfugge ma fondamentalmente il problema principale di Toriyama è che lui era questo director da JRPG di quarta categoria che si era trovato per qualche strana motivazione tra i piani alti di Square Enix a dover fare i Final Fantasy e quindi tu hai un director che a malapena riuscirebbe a fare decentemente un atelier e lo metti su Final Fantasy ed è una cosa problematica ovviamente perché quando si tratta di un progetto così ambizioso così problematico da tutti i punti di vista così complesso non puoi mettere un director che in realtà ha anche magari del talento ma non è in grado di gestire cose di quella dimensione lì e questo invece alla fin della fiera ha diretto un botto di Final Fantasy e ha veramente messo il suo nome su tutti i peggiori e il primo che credo sia quello che vuoi trattare estensivamente tu in questo preciso istante è il leggendario l'inimitabile ma purtroppo imitato all'interno della saga successivamente Final Fantasy X-2 devo premettere che mi dispiace quasi un po' perché è sparare sulla croce rossa Final Fantasy X-2 nel senso che altri titoli che citeremo in realtà magari lo facciamo anche un po' come provocazione di dire che sono quelli che ci fanno più schifo però in realtà magari diremo sempre che ci sono delle cose positive delle cose che hanno funzionato nonostante beh anche nel X-2 anche nel X-2 nel X-2 però veramente poco e soprattutto è un titolo così stupido ma intendo proprio nel senso puro della parola è un titolo così stupido meglio ancora che veramente quasi ti dispiace dire che fa schifo però ragazzi diciamolo è un gioco che fa schifo parliamone un attimo un pochino così con calma la questione è che il buon Toriyama era stato l'event director in Final Fantasy X quindi si era occupato degli eventi speciali del gioco giustamente hanno detto dobbiamo dare la direzione del primissimo seguito ufficiale di un capitolo della saga a chi la diamo? diamola all'ultimo dei poveretti che ha fatto gli event verrà benissimo va detto poverino io qui spesso non dico una lancia ma una piccola matita in favore di Toriyama dicendo che quando ti dicono organizza una cena con gli avanzi di due settimane non è facile non è facilissimo diciamolo pure infatti Final Fantasy X 2 è appunto il primo seguito ufficiale di un titolo della saga di Final Fantasy seguito al X che era un gioco che ha avuto un grande successo e che è stato molto amato e soprattutto ha avuto una protagonista molto amata Yuna è tuttora tra i personaggi preferiti del fandom dei giocatori quindi hanno pensato ma mentre ci spostiamo sul prossimo perché non facciamo un titolo di mezzo per fare del puro cash in d'altra parte ricordiamoci che quelli sono gli anni in cui Squaresoft era diventata Square Enix sì e sono stati gli anni che hanno poi portato in realtà al degenero che poi secondo me è esploso veramente con la cacciata di Matsuno e in generale tutta occasione di Final Fantasy X 2 ma lì si vedeva che comunque a livello proprio concettuale avevano cambiato completamente filosofia per abbracciare il wildenaro su quello non ci pionda assolutamente sì e infatti era il 2003 ed esce questo seguito tra l'altro rapidissimo perché è un Final Fantasy che è stato sviluppato alla velocità della luce rispetto agli altri perché chiaramente riutilizzava che è un piacere tutti gli asset tutti gli ambienti qualsiasi cosa praticamente era presa para para da Final Fantasy X c'era solo da fare una cosa appiccicargli una trama decente secondo te l'hanno fatto? assolutamente no non proprio un lavoro Toriyama you had one job che poi non credo neanche l'abbia scritta lui credo che comunque ci sia sempre di no c'è sicuramente no non è che non credo la scritta Nojima sono abbastanza sicuro che la scritta è assolutamente scritta Nojima ma il problema è che dico tu sei il director ma santo Dio ma dirigi fai qualcosa non ti rendi conto che Nojima non lo so non ha fumato la cannetta che lo peste bravo quel giorno e infatti è un cane non lo so rimane il fatto che il presupposto anche un po' delirante di Final Fantasy X è rendiamo Yuna un'eroina action un po' ricalcando Charlie's Angel perché fa parte di questo terzetto e la mandiamo in giro per il mondo a compiere delle subquest fondamentalmente perché è un gioco costituito interamente da subquest per correre verso questo finale che ti promette di non facciamo spoiler sul finale di Final Fantasy X ma ribaltare il finale di Final Fantasy X quindi insomma già partiva da un presupposto non indifferente perché per me tutto quello che va a ribaltare un finale che comunque è stato amato deve essere fatto sì in Final Fantasy X il finale aveva i suoi problemi ma era comunque qualcosa di molto potente diciamo nel senso che avevano pisciato un po' fuori dal baso ma quella roba lì funzionava non è che c'era il gioco devi farlo bene o non lo fai loro l'hanno fatto male ma la questione con Final Fantasy X per me è che ho una sorta di discrepanza cognitiva quando ci penso perché in realtà credo che a livello puramente di gameplay era fatto bene molto divertente molto molto tant'è che ovviamente il battle system sempre di Royo Kito di cui abbiamo parlato nell'episodio extra precedente come in qualità di director di Final Fantasy IX non uno qualunque insomma no no ed è il 6 tra l'altro assieme a Kitase quindi insomma pochi casi esattamente lui ha sempre curato i battle system dal 4 in poi credo e Final Fantasy X 2 di fatto io lo trovo molto divertente e in assoluto credo tra i titoli minori diciamo tra quelli meno riusciti quello che è più divertente da giocare al netto di tutto perché il sistema delle dress sfere quindi le protagoniste che siccome sono femmine cosa vogliamo fare le facciamo cambiare tanti vestitini colorati cambiano questi abiti che poi in realtà hanno la funzione di job system fondamentalmente quindi sostanzialmente funziona così io lo trovavo un sistema che era veramente divertente mi piacevano i combattimenti al netto di qualche bug perché comunque era il primo tentativo di uscire dallo schema JRPG classico introducendo delle novità e quindi somigliava un po' a un action ma non proprio mi ricordava un po' la prima volta che l'ho giocato Parasitive il primo aveva un po' questa formula ibrida e quindi da quel punto di vista me lo ricordo anche che mi sono passata delle ore divertenti però ragazzi quando cerco di ricordarmi il resto è di un è un gioco di un'idiozia senza sì sì è di una stupidità ma allora ma è proprio già i primi minuti che io poi l'ho rigiocato in live non troppo tempo fa già i primi minuti sono scioccanti ma perché tutta la delicatezza dell'universo di Final Fantasy X tutta la profondità tutta la drammaticità va a troie in dieci secondi netti è incredibile parte è una roba inguardabile le prime ore sono inguardabili ragazzi il problema è che poi non è che la trama migliora cioè svacca dei livelli strabili ma sì anche perché purtroppo non ha una vera trama appunto cioè ha dei momenti in cui tu compila quest e c'è lo scattino in avanti però assolutamente poco sì assolutamente e poi c'è questo problema a parte il fatto che io amo sempre immaginarmi Lulu come una persona reale il personaggio di Lulu che riceve la sceneggiatura e dice io sta roba non la faccio e quindi qualcuno dice c'è da trovare un'attrice un po' uguale ma non proprio tanto uguale e hanno inventato il personaggio di Payne Payne neanche i capitoli cattivi di Metal Gear Solid hanno dei nomi così quindi trovano questo personaggio che si unisce a questo terzetto composto da Yuna appunto Payne e Riku e se ne vanno in giro ma il problema è che il personaggio di Yuna che era molto amato ma dico ma come ti viene in mente per farlo amare ancora di più lo stravolgo e la rendo il contrario di Yuna cosa ti salta in mente perché io capisco che Yuna comunque in Final Fantasy 10 è segnata dall'essere cresciuta con una grossa responsabilità è comunque una persona fin troppo di già al dovere che fa fatica a vivere come un adolescente questo ci sa però cazzo cioè ti lascio solo ti lascio solo due minuti e me le metti i pantaloncini mezzi tipo strappati stile TikTok e diventa una pop star e vai in giro a fare una cioè ma di che cosa stiamo no 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 siamo alla follia stiamo veramente alla follia ma infatti è una roba allucinante che poi come dicevi tu è un mezzo spreco perché le problematiche del gioco sono prevalentemente narrative ma il combat system era in realtà piuttosto valido il gioco non era poi così male strutturalmente manteneva molto delle problematiche del 10 in realtà persino amplificate dal fatto che comunque la linearità era gestita molto peggio del 10 era il gioco aveva delle attività molto meno ispirate comunque era qualcosa di molto meno riuscito in generale proprio a livello di design e direction ma ripeto l'hanno dato Toriyama non è che te potevi aspettare il capolavoro però è la narrativa quello che lo disfa veramente perché il 10 comunque era un mondo del grande potenziale che però in quel gioco aveva chiaramente detto tutto quello che doveva e poteva dire e quando hanno voluto tirarla mamma mia se l'hanno tirata male ma poi con tanto di finale segreto per avere il good ending a tutti una schifezza veramente una schifezza in vera pessimo e tra l'altro secondo me è resa ancora più pessimo dal fatto che avevano avuto l'intuizione giusta all'inizio perché all'inizio non so se tu ti ricordi avevano detto che gli sarebbe piaciuto fare uno spin off di Final Fantasy 10 che raccontasse il viaggio di Braska Jack Theoron e sarebbe stato figo e ti dici cavolo quello solo che secondo me si sono fatti due conti c'era da fare troppo da ricostruire troppo troppi nuovi asset personaggi hanno detto ma sai cosa facciamo che Lulu e Wakka si sono sposati hanno un bambino dentro una granzana che soffa e siamo a posto così e vabbè ok d'accordo però capisci che questa questa cosa qua purtroppo è una parte integrante di tutto l'approccio al lavoro di Toriyama nel passato e nel futuro cioè il cito sempre Boris però veramente lo smarmella tutto è quella roba lì del non ce la facciamo o forse non ce la facciamo o forse è troppo faticoso allora facciamo altro che ha rovinato tutta la sua produzione perché il 10-2 i problemi ce li ha sono macroscopici non possono essere in alcun modo eliminati e sono sotto gli occhi di tutti ma Toriyama ha fatto porcate persino più abominevoli in quello che è il mio Final Fantasy più odiato che scusate scusami Aligi ma qui mi chiede una parentesi è pure uno dei miei non ti prendere tutta la voglia capisci di odiare questo titolo perché è importante che si sa però credo sia il più odiato credo da quasi tutti ma non ne sono sicuro che sia il più odiato da tutti ma da quasi tutti ma è il 13 ragazzi che poi è la è la prima parte della meravigliosa fabula nova Cristallis che quando la nomini a un fan di Final Fantasy gli viene la pelle d'oca e si congela più delle volte il 13 è stato un disastro in realtà in larga parte per la Direction smarmella tutto di Toriyama ma in larga parte perché è stato uno dei primi titoli che ha dimostrato che Square non si raccapezzava più non ce la faceva più organizzare le cose soprattutto quando le cose erano particolarmente complicate ed erano particolarmente difficili da mettere in alto non aveva più quel coraggio che aveva all'inizio non era più in grado di gestire i suoi mezzi i suoi talenti la sua tecnologia e quindi però i giochi li doveva buttare fuori cioè i giochi li doveva buttare fuori li dovevi buttare fuori e quindi completi incompleti usciti bene usciti male non gli importava più uscivano e è uscito Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII è un gioco che ha delle problematiche a livello di sviluppo che secondo me sono seconde solo a Final Fantasy XV perché il XV è stato più tormentato di tutti ma il XIII tra l'altro il XV deriva dal delirio del XIII ricordiamolo perché il XV era il versus XIII che fa molto ridere inizialmente ma il XIII inizialmente era stato concepito come questo inizio di questa incredibile universo chiamato la fabula Nova Crystallis che doveva fare da base a tutta una serie di Final Fantasy straordinari che dovevano segnare la nuova generazione e io ti ricordo il trailer di Final Fantasy XIII alla presentazione di PS3 che spettacolo incredibile non era era una roba bellissima era strabiliante il problema è poi quando hanno dovuto fare il gioco vero perché lì c'è stata questa cosa che ti dimostrava che erano veramente nel vuoto perché da un'intervista è uscito fuori che il trailer era basato su un gioco inesistente esatto loro non avevano il gioco quelli sono stati gli anni in cui Square Enix si è convertita a una casa produttrice di trailer e quello è stato il loro più grosso scivolone in termini anche proprio di pubblico perché da quel punto in poi hanno continuato a fare a raffica trailer sempre più fichi che poi non corrispondevano ai giochi che uscivano perché non avevano il gioco esatto c'è questa intervista incredibile ma loro erano dei folli c'è questa intervista incredibile in cui lui diceva non avevamo il gioco e dovevamo farlo dovevamo raggiungere quel comparto tecnico lì che gli avevamo presentato senza sapere come fare e non avevamo i mezzi per farlo c'era tra l'altro tutto un nuovo motore di gioco che dovevano utilizzare per playstation 3 con tutte le difficoltà di sviluppo della playstation 3 perché ricordiamoci il processore cell tutti i paletti dello sviluppo tutti i casini di sviluppare su quella piattaforma era una cosa difficilissima fare quel gioco come lo avevano presentato quindi cosa hanno fatto loro si sono concentrati sul comparto tecnico loro hanno avuto quest'ossessione del graficone senza però avere una direzione a livello di gioco che poi si è ripercossa in modo terrificante sul gioco vero e proprio perché per la fantasy 13 si vede che è un gioco che ha una direzione incredibilmente limitata che poi è un vero peccato perché nojima lì si era fumato la sua cannetta in realtà e quindi si era attivato era finalmente riuscito a fare qualcosa di buono dopo un po' di anni di insomma e la fabola nova cristallis in sé non era un concept malvagio era un universo con del potenziale questo universo con i falsie gli elsie queste entità divine che controllano il destino forzosamente degli esseri umani era qualcosa dal notevole potenziale che tra l'altro era stata concepita con un concept molto bello cioè la volontà di ricollegarsi ai fantasy più antichi quelli con i cristalli e dare a questi cristalli per certi versi forma rendendoli delle sorte di divinità cioè il concept dei cristalli che era prevalentemente buono positivo diventava negativo perché le divinità avevano delle persone all'agenda estremamente negative che guidavano la vita della gente il concept era figo la trama di Final Fantasy XIII non era neanche malaccio come idea di fondo il problema è l'applicazione perché lì poi è stato un delirio quando il gioco è disegnato male l'applicazione della trama non riesce a farla come vorresti quello che viene fuori è qualcosa di difficilmente fruibile allo stesso livello di un Final Fantasy con un concept solido Final Fantasy XIII lo chiamano anche Final Corridor XIII perché era di una linearità aberrante e ora uno dice vabbè ma anche il X era super lineare ma in modo diverso ragazzi il X costruiva la sua storia in queste fasi lineari mostrandoti del world building dandoti delle attività rendendoti interessanti alle conversazioni con i personaggi l'esplorazione delle zone delle zone abitate tutto quello che facevi era comunque interessante il XIII questa cosa purtroppo non la fa il XIII è linearità dove tu non hai niente da fare al di fuori del combattimento per 20 ore in quel gioco tu impari a usare il combat system e basta cioè e basta la noia la morte sì e oltretutto è un gioco in cui incontri un numero spaventosamente basso di esseri umani con cui parlare cioè io mi ricordo delle lunghe sezioni in cui di fatto non ci sono delle reali interazioni che ti aiutino a costruire l'idea di un mondo abitato ci sono queste appunto lunghe fasi di gioco in cui massacri soldati massacri gente però di fatto tu interagisci soltanto con i tre personaggi che fanno parte del tuo gruppo e questo comunque non è che sia una cosa di per sé imperdonabile ma non ti aiuta a sviluppare l'idea di un vasto mondo emozionante in cui c'è tanta cosa da fare tanta vita tanto da scoprire te lo tiene chiuso e quando tu lo udici a una meccanica corridoio è la morte è la morte e tra l'altro cioè è anche il motivo per cui è difficile investire emozioni nel mondo di gioco non c'è world building e infatti una delle problematiche principali del gioco che questa viene riconosciuta quasi da tutti è che gran parte della comprensione di quello che è il lore il background narrativo la complessità narrativa dell'universo è data ai data log tu la leggi nei data log non ti viene spiegata fluidamente nella trama non capisci quello che sta succedendo a dovere se non ti leggi tutti i data log e io devo andarmi fondamentalmente per capire la storia non completamente ovviamente ma nei suoi dettagli a leggere delle comunicazioni che la maggior parte dei giocatori neanche considera perché capita ovviamente di andarsi se vuoi impararti tutto su tutte le informazioni andarti a vedere i documenti che trovi in giro ma minchia doverlo fare per forza per comprendere l'universo vuol dire proprio che la narrativa l'hai gestita male ed è legata al fatto che loro non avessero una direzione che poi Ele ti ricordi perché a un certo punto loro non ci hanno messo zone aperte centri cittadini se no la zona vabbè lasciando perdere la step che poi è quella che dopo 20 ore puoi girare in giro a fare le secondarie dove ammazzi i nemici quella non la conto perché è una roba talmente banale che vabbè ok il gioco si apre ma per modo di dire però ti ricordi l'intervista di Toriyama in cui spiega perché non ci sono le città cosa diste ai tempi allora io di Toriyama ricordo soltanto che diceva siamo molto confusi non sappiamo cosa fare ti prego cosa diceva in merito alle città no allora quella del siamo molto confusi è assolutamente vera perché c'è ci sono varie interviste di Toriyama che descrivono il disastro di fare la fantasy 13 in cui lui a un certo punto dice non avevamo una direzione precisa avevamo opinioni contrastanti abbiamo deciso un sacco di cose all'ultimo momento perché non sapevamo che cosa fare e già lui ti fa capire comunque quanto valga come director nel senso che quando succede un casino così di norma un director con le palle dice basta qui comando io e ora decido io e ti porta a termine il gioco lui boh siamo confusi e già lì ok ma la cosa bella è non abbiamo fatto le città e le zone aperte perché era troppo lavoro era troppa fatica e non credevamo di potercela fare è vero è il concetto contrario di fantasy 7 fondamentalmente fantasy 7 era sentivamo di poter fare tutto e invece questo è ma mi sa che non ce la facciamo forse è meglio che lasciamo lì ed è una roba che mestizia c'è proprio la mestizia che tristezza che tristezza è l'equivalente di quella fase della tua vita in cui tu hai coltivato grandi sogni fino a quel momento e poi i tuoi genitori ti costringono ad iscriverti ad economia e commercio perché tu senti i sogni i sogni i sogni e poi invece vai a fare economia e commercio perché mi ha detto così e al limite c'ha lo studiolo dove ti può mettere a lavorare con lui c'era una tristezza è brutto proprio l'imborgesimento i tuoi paragoni mi piacciono sempre un sacco allora si fanno scuola ti dico la verità un giorno paremmo raccolta comunque un momento molto triste perché poi anche lì in realtà il combat system non faceva così schifo cioè molti lo criticano per un sacco di ottime ragioni nel senso che era questa cosa del paradigma shift perché Toriyama è un po' fissato con varie cose sia quelle lì che abbiamo appena detto cioè il facciamo tutto a cazzo di cane smarmella tutto Duccio ma anche il concept del combat system semi action con i cambiamenti legati ai vestiti e ai ruoli Final Fantasy 13 il concept originale del combat system era unire la tattica di un combat system della JRPG all'elemento action quindi hanno fatto il paradigma shift ovvero il fatto che tu usassi un solo personaggio gli altri avessero dei ruoli che cambiavano con delle caratteristiche molto specifiche tu gli altri li controllavi solo tramite lo switch dei ruoli controllavi prevalentemente un personaggio a cui davi le azioni ma non si fermava mai il tempo tu selezionavi le azioni era tutto in tempo reale e per velocizzare le battaglie avevi questo fantomatico auto battle che ti selezionava le azioni automaticamente una delle grandi verità e delle grandi tristette di Final Fantasy 13 è che con l'auto battle ti pulisci la maggior parte delle battaglie cioè il gioco si gioca da solo però non è vero nel senso che comunque tu non puoi farti tutto il gioco con l'auto battle quando arrivi a Grand Pulse l'auto battle è completamente inutile quindi il combat system ha una tattica di fondo il problema è che il sistema era abbastanza semplicistico concettualmente seppur funzionale il cristarium che era il sistema di sviluppo era molto lineare all'interno dei singoli ruoli e in generale la difficoltà del gioco era troppo bassa per la stragrande maggioranza del gioco quindi con l'auto battle ti pulivi veramente una gran parte delle battaglie e quindi il gioco non era un gioco cioè potevi letteralmente renderlo una sorta di linearissimo e pallosissimo filmatone per ore ore o cioè iniziavano a brillare le meccaniche dopo 20 ore di gioco questa cosa qua è inconcepibile è inconcepibile vuol dire proprio che era diretto e disegnato male e la cosa più assurda è che il concept del combat system di Final Fantasy XIII gli è riuscito per davvero in Final Fantasy VII Remake è vero è vero è lì la follia cioè gli è riuscito per davvero in Final Fantasy VII Remake quello di unire l'action alla tattica in modo sensato utilizzando la pausa tattica qua avevano fondamentalmente fallito che poi infatti è quello che ha portato ai capitoli dopo che io non so se tu li avevi giocati o te li ricordi ma io li ho pure recensiti e mi hanno segnato negativissima allora io ho giocato al 13 non mi aveva assolutamente entusiasmato per il mio solito problema lo dico sempre che può essere anche visto come un limite mio e non lo nego che io vado molto a polso con i personaggi per quanto riguarda il mio legame con qualcosa e quindi i personaggi di Final Fantasy XIII non mi interessavano ce n'erano alcuni che erano buoni c'erano anche dei bei momenti tra di loro ma erano totalmente sparsi io di Final Fantasy XIII ho un buon ricordo di alcuni momenti di Saz e di come in realtà avevano costruito piuttosto bene la relazione palesemente lesbica tra Vanille e Fang e Fang sì e c'erano delle cose buone da quel punto di vista ma per il resto proprio non attaccava e quindi mi sono detta ma davvero c'ho voglia di giocarmi una trilogia di questa roba ho giocato del 10-2 cioè del 13-2 perdona l'apsus comunque giustificato e ho detto ok magari no diciamo che mi è venuta in mente una scena di un film che io amo moltissimo che è Santa Maradona ed è un momento in cui un personaggio viene minacciato da qualcuno che gli dice guarda che se non mi paghi ti entro in casa ti spacco le gambe ti spacco le braccia e poi ti infilo la chiave inglese nel culo e il personaggio risponde beh alla fine mi è andata bene perché dopo le braccia e le gambe ma che me ne frega del culo e per me Final Fantasy 13-3 cioè io lo leggo sempre a quella roba lì perché mi dico ma dopo che mi hai spaccato le braccia con il primo le gambe con il secondo le gambe con il secondo ma davvero voglio anche la chiave inglese voglio dire veramente mi sembrava uno stretch da chiedere al giocatore di spimparsi tre capitoli di quella roba che poi si sono resi conto con il 13 che non era funzionata bene e quindi di fatto hanno rifatto un'altra cosa completamente con il 13-2 che sminchiava la mitologia che era l'unica cosa che funzionava del capitolo precedente cioè ti giuro che ero confusa come teori ama e ho detto ragazzi infatti è una cosa paradossale che hai fatto bene a ricordarmelo anche i personaggi sono una grossa debolezza del 13 perché non riesci a provare attaccamento nei loro confronti ma perché i dialoghi della prima fase sono terribili è Nojima al suo peggio e proprio sono terribili ma poi hanno queste caratterizzazioni incredibilmente mosce ne parlavamo prima di fare il podcast volete sapere qual è il concept di lightning che peraltro è paradossalmente anche il personaggio femminile più amato della serie stando ai sondaggi perché i giappi sono strani così il concept di lightning è stato letteralmente vogliamo cloud femmina hanno letteralmente detto questo a chi l'ha creata chi l'ha disegnata che se non erro è stato Nomura l'ha disegnata lui ma Toriyama gli ha detto voglio cloud femmina perché tutto il 13 tutta la fabbola nuova cristalli si era stata creata con un tentativo di essere un rimando a ciò che era il fulcro dei fantasy originale solo che hanno sbagliato tutto ed è esattamente successo quello che dicevi tu cioè non eri non avevi alcun investimento emozionale nei personaggi anche quando le loro vicende erano interessanti alcuni personaggi erano caratterizzati in modo orribile la sua caratterizzazione era mi sta sul cazzo Snow la caratterizzazione di Snow è voglio salvare voglio salvare la mia ragazza fine la caratterizzazione di Vanille è essere la più grande rompicoglioni dell'universo tra l'altro le hanno scelto una doppiatrice che non aiutava perché il doppiaggio era terribile terribile in inglese ed è un peccato perché Vanille di per sé aveva una background story molto interessante è che non riuscivi ad apprezzarla quindi comunque personaggi con del potenziale di crescita degli archi narrativi potenzialmente interessanti buttati in eccesso sempre legato comunque alla mancanza di direzione evidente nel gioco e quindi hanno sbagliato tutto e cosa hanno fatto col 2 e col 3 come hai detto tu buttato via tutto il 2 era diventato una sorta di Pokémon dove catturavi i mostri li usavi in battaglia con i protagonisti diversi tra l'altro protagonisti di una mosceria persino peggiore di quella dei personaggi originali perché cioè Noelle non se lo ricorda nessuno grazie a Dio la sorella di Lightning Sarah non mi ricordo neanche come si chiama Sarah Sarah mi sembra non mi ricordo ma non mi ricordo neanche il nome capisci questo ti dovrebbe far rendere conto di quanto era un personaggione obiettivamente veramente allucinante l'unica cosa veramente assurda col 2 hanno mandato completamente a puttana nella narrativa col 3 hanno mandato completamente a puttana nella struttura perché è diventato proprio un'altra sperimentazione di gRPG di quarta categoria con elementi action aveva anche degli elementi interessanti ma poi ci hanno messo anche lì le meccaniche temporali tutto il loro rimaneggiamento hanno fatto un casino alla fine della fiera ma il 2 e questa è la cosa che mi fa più male al cuore aveva il cattivo bello aveva il cattivo bello aveva Caius il 2 che era un personaggio della madonna con delle motivazioni della madonna che nel 2 se poi facevi determinati finali capivi che alla fine riusciva anche a vincere cioè vinceva Caius a un certo punto e poi tipo arriva il 3 e tutto ciò che è stato fatto di buono con quel personaggio lo cancella lo elimina quindi qualunque qualunque attaccamento tu possa avere a quell'universo a un certo punto si disintegra così come se nulla fosse un disastro no no guarda è difficile quantificare la delusione che per me è stata la fabbola Nova Cristallis perché poi immaginati anche il ragazzetto già cresciutello ma ragazzetto comunque ancora che guarda il trailer di Final Fantasy 13 aspettando la nuova generazione dei Final Fantasy sulla nuova console e si vede arrivare letteralmente uno in fila all'altro i 3 Final Fantasy più brutti della storia la cosa più triste tra l'altro di immaginare te ragazzino deluso per questa cosa è che non si vede molto chiaramente una luce in fondo al tunnel no perché mi piacerebbe dire al te ragazzino caro Aligi piccolo le cose migliorate andrà tutto bene hashtag spoiler non andrà tutto bene ci saranno una serie di casini infiniti e appunto come dicevi prima saranno direttamente collegati in realtà a Final Fantasy 13 nel caso specifico con Final Fantasy 15 che Michia ma ti rendi conto che il Versus 13 lo hanno presentato quasi assieme al 13 originale è assurdo è assurdo infatti ti dico mi fa anche dispiacere metterlo qua Final Fantasy 15 perché è un titolo di cui sappiamo così bene purtroppo quanto è stata tormentata è difficile l'uscita che da una parte vorresti dire no dai però alla fine ne è valsa la pena perché è un grande gioco purtroppo non è così cioè io sono meno cattivissima di altri so che tu l'hai e non ti è proprio piaciuto proprio per niente io ne salvo alcuni aspetti ma comunque non è assolutamente un bel gioco cioè c'è poco da fare però io salvo solo la bromance cioè i bros sono l'unica cosa che salvo del gioco perché poi per me che sono uno che ama molto analizzare a livello tecnico i videogiochi è un tale pastrocchio di design di meccaniche di concept che mi riesce veramente difficile poterlo apprezzare che poi ripeto apprezzo il fatto che per come è uscito nonostante i disastri che ha avuto a livello di sviluppo è un miracolo sì perché non l'hanno letteralmente sviluppato in meno di un anno se vai a vedere poi quanto l'hanno rifatto sono dovuti ripartire i casini che hanno avuto con i motori l'hanno fatto veramente in pochissimo tempo però non è salvabile assolutamente diciamo che ha di per sé una storia produttiva che è tipo interessantissima noi ancora adesso ogni tanto ne parliamo perché comunque è talmente piena di colpi di scena cose non dette misteri irrisolti che è emozionante in un certo senso cercare di ricostruire perché cosa è successo proprio veramente a dirlo in modo approfondito si potrebbe stare tanto 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 diciamo un po' in breve che questo gioco appunto fu annunciato come parte della fabola nuova Cristallis e ovviamente venne accompagnato da un trailer di lancio che come adesso sappiamo era basato sul nulla il nulla era praticamente il pitch del gioco era una bomba nucleare tra l'altro pur essendo basato sul nulla il trailer era incredibile il problema è che quando tu fai un trailer ti devi preoccupare di una sola cosa cioè che sia fico e quello va bene quando poi ci devi costruire un vero gioco e lo devi sviluppare è tutto un altro paio di maniche quindi questo titolo cosa è successo che la gente lo aspettava moltissimo perché era stato promesso un Final Fantasy più gritti più adulto più dark che c'entrava in qualche modo con la criminalità organizzata c'erano delle cose che ti facevano pensare alla Yakuza a questi personaggi un po' oscuri che stanno forse non dalla parte del male ma comunque ci si avvicinano cioè un mondo molto crudo e quindi c'era molta attesa per questo tipo di Final Fantasy che d'altra parte non essendo un Final Fantasy numerato ma parte di una compilation più grande compilation il nome maledetto una compilation più grande aveva anche un po' la libertà diciamo che poteva prendersi di non essere il classico Final Fantasy ma di spaziare un po' e quindi c'era tanta attesa solo che questa attesa ogni volta c'era un nuovo trailer c'erano nuove piccole info hanno cominciato a dire vita morte miracoli dei personaggi ma questo gioco non usciva e non è uscito per dieci anni se non sbaglio forse un po' di più forse di più è stato è stato un grande delirio è stato un grande delirio che è durato veramente una vita e doveva essere tutt'altro finché a un certo punto non è stato riqualificato hanno deciso che non era più il Versus Trevici che non era più parte della fabola nuova Cristallis che forse la fabola nuova Cristallis non era stata accolta così positivamente come credevano e che questo diventava il nuovo Final Fantasy mantenendo però quei personaggi perché quei personaggi erano piaciuti un sacco e perché se no Nomura si offendeva perché li aveva disegnati lui e quindi la cosa più triste quando tu guardi i personaggi di Final Fantasy 15 che comunque io ripeto è una delle poche cose salvabili del gioco i personaggi sono fanno il contrario di quelli del 13 magari sono meno interessanti in termini di background story perché lo sono ma sono più calorosi cioè ti ci affezioni più c'è qualcosa che li rende più umani però sono vestiti come era di moda nel 2005 ragazzi però parliamoci seriamente vogliamo davvero parlare di moda dei personaggi disegnati da Nomura perché stiamo parlando di uno che mette i pinocchietti su qualunque Cristo col cromosoma Y da qui all'eternità adesso l'IG io non so se tu lo sai ma era pure frutto di una collaborazione con uno stilista pure che era adesso non ricordo più però faceva parte un po' di quella wave punk got visual dei dei primi anni diciamo 2000 no che io ho seguito perché all'epoca ero giovane innocente e mi piaceva questo genere delle cose e quindi era quell'estetica un po' visual punk un po' host club no come cosa le scarpe a punta di coccodrini queste robe qua e quindi c'è è un esubero di questa roba solo che poi quando è uscito nel 2000 cos'era 18 17 era chiaramente anacronistico cioè si vedeva che erano dei design pensati per essere fichi nel 2006 ormai erano diventati ridicoli e infatti tu li vedi e pensi ma figlioli miei ma perché non mi mettete la divisa delle guardie che almeno avete una prestanza porca miseria non vi si può vedere ridotti così ma io voglio un sacco di bene al personaggio di Ignis perché mi piacciono sempre i personaggi che sono un po' quelli che riportano a casa gli amici sbronzi la sera quelli che abbiamo colorato è un po' lo shiryu il dragone della circostanza oh si lo è per molti sensi e quindi io gli voglio bene ma c'ha una camicia di coccodrillo ma che cosa mio dio vabbè a parte la fashion police di Fanafetta T15 questo è per dire che comunque quando poi si è deciso a uscire questo gioco è uscito perché c'è stata una rivoluzione interna al team nel senso che Tetsuya Nomura che narrano leggende comunque voci diciamo che non collaborava esattamente con la riuscita di questo gioco si è allontanato per dedicarsi interamente a Kingdom Hearts 3 con la Real Engine tra l'altro quindi ha lasciato la patata bollente al povero Tabata che noi abbiamo in molteplici occasioni intervistato osservando un uomo che pian piano veniva consumato internamente sempre di più di mese in mese di anno in anno un uomo distrutto dal lavoro che poi a un certo punto ha detto I've had enough of this shit e ha lasciato Square Enix per dedicarsi ad altro perché non gli faceva più anche se gli avevano affidato un Firefly poverino perché comunque Tabata si è ritrovato tra le mani un progetto che non era veramente un progetto era un insieme di tante idee tanti spunti alcuni dei quali magari buoni ma che poi di fatto una volta messi uno in fila all'altro non costituivano né un gioco né la storia per un gioco infatti la storia ha dei punti ha delle mancanze proprio pesate non è veramente non è una storia sensata ha dei momenti in cui niente di quello che sta succedendo è chiaro ha dei pezzi tronchi cioè tutta la storia di Noctis e suo padre che dai trailer sembrava centrale non c'è non c'è questa roba non c'è che poi c'era anche quella roba del collegamento diretto al film che poi in realtà era sbagliato si vede proprio lontano un meglio che hanno cambiato in corsa troppe cose e alla fine gli è venuto un pastrocchio che hanno solo parzialmente risolto con i 12.000 DLC della Royal Edition che ampliano notevolmente le vicende ma a mio parere non bastano comunque a rendere tutto una storia cioè a dare tutto il potenziale alla storia che poteva avere con il concept originale o comunque con i piani originali è un vero spray ma anche perché poi io mi sono anche interessata sono andata a vedermi un po' quali erano i primi concept quando li hanno cambiati perché e c'erano effettivamente dei problemi gigantoscopici anche nel concept originale perché tu ricorderai che poco prima che uscisse Final Fantasy XV era uscito un trailer bellissimo come al solito non mi ricordo il titolo però era veramente un trailer particolare era molto bello era stato realizzato esternamente da Square non mi ricordo il titolo vabbè comunque era bellissimo e giocava tutto sul tema del sogno sul personaggio di Luna Freya che compariva a Noctis come lupa se non sbaglio c'era tutto questo tema qui quel trailer non ha niente che si ricolleghi a quello che poi è il gioco perché quel trailer era stato sviluppato sulle idee di concept di quasi dieci anni prima sì sì era proprio l'altro concept perché poi loro il personaggio di Luna Freya l'hanno cambiato completamente il paradosso è che l'hanno cambiato in peggio cioè è un personaggio di rara inutilità guarda devo dire che in realtà secondo me sono andati dalla padella alla braccia ma stavano già in padella perché io avevo detto che praticamente l'idea che era originaria per il personaggio di Stella che era l'ante Luna Freya era che praticamente il suo compito era che era stata rapita e veniva menata la sentiva solo piangere e cose di questo tipo e poi tra l'altro plot twist questo lo spoiler perché non è uno spoiler perché poi la storia appunto è completamente cambiata però nell'idea originale alla fine si doveva scoprire che Noctis in realtà l'aveva uccisa e non lo sapeva ora io ti posso anche dire ok idea interessante spiegami come ci si arriva nessuno aveva pensato a come arrivarci e nessuno aveva pensato che magari era un filo controverso che l'unico personaggio femminile l'unico della storia si facesse questo nel gioco per essere ammazzminata e ammazzata non era proprio il massimo no capisci che era proprio quindi cioè siamo passati dal cercare di dare una minima dimensione a un personaggio che era fatto per il nulla risultato purtroppo raffazzonatissimo assolutamente Luna è un personaggio un po' modello di una con dei anche dei cambiamenti a livello caratteriale che in realtà te la rendono anche affascinante quando compare le prime volte no dici ah cavolo sembra una che comunque ma poi alla fine no perché la vedi 5 secondi in tutto il gioco devi credere che poi fa ridere che comunque Tabata sotto sotto sentiva di averla per certi versi salvata come personaggio rispetto al concept iniziale che non è falso però non gli è riuscito il salvataggio come voleva lui anche perché poi cosa hanno fatto al volo hanno detto no dai mettiamoci almeno altre femmine ci hanno messo quel troione di Cindy perché io lo dico veramente mi costa usare questa parola per essere una femminista e non penso che dovrebbe essere usato in modo dispregiativo ma Cindy è imbarazzante è veramente imbarazzante perché dici porca troia però un minimo ragazzi io capisco negli anni 90 che non c'era senso della misura ma non c'erano neanche personaggi realistici quindi potevi fare un po' quello che volevi ma quando mi cerchi di fare una roba iper realistica perché questa è vestita come cioè dai è imbarazzante però dici vabbè è un personaggio secondario il problema è che anche gli altri personaggi femminili che ci hanno inserito che dovevano essere potenzialmente fichi in realtà non fanno niente arena come si chiama e compare 30 secondi boh non la vedi più design fichissimo buttato nel gabinetto così senza motivo genziana che sembrava dovesse essere importantissima non serve a un cazzo e ciao purtroppo è il grande limite di questo gioco nel senso che ci sono tante cose che ti danno lo spunto e poi però ritraggono il braccio quindi come in 2013 c'è il problema che tu devi andare a leggerti tutti i file comparti le ultimania e tutti i cazzi vari per capire che c'è una backstory dietro perché altrimenti è la cosa più vaga e più fuffosa del mondo i personaggi sono tanto carini le interazioni tra di loro sono fatte benissimo sembra di essere davanti a un vero gruppo di amici proprio belle però cacchio c'è allora la backstory di prompto io la trovo scema mi dispiace un stupo di gente dice che la cosa più bella del gioco io la trovo di una solidità abissale però no non c'è nulla di alto livello lì narrativamente se dire la verità forse io mi ricorderò sempre il momento in cui a un certo punto Gladio potremmo aprire una parentesi sui nomi da coglioni che ci hanno ma non l'hanno vabbè ma il latino usato a cazzo non è sparare sulla croce rossa perché Gladio usa amicizia per me è un problema serio però vabbè c'è questo momento in cui il personaggio dice vabbè io devo andare perché devo affrontare una prova d'accordo sparisce torna e tu non saprai mai fino all'uscita del DLC che cazzo ha fatto che cosa ha fatto sì ma stiamo schiuttando eh lo so lo so quello è una delle cose che disturba che infatti rende la Royal Edition una roba un attimino più decente come GRPG perché se non altro questi buchi scompaiono però è comunque delirante eh ma ti dimostra quale è stata la situazione di Square Enix cioè purtroppo i nostri giochi più odiati tolto il 10-2 che comunque è stato l'inizio della fine per certi versi eh nascono da un periodo e lo ripeterò all'infinito di caos organizzativo tragico e disastroso che ha portato letteralmente la serie Final Fantasy a buttare nel cesso un decennio intero di idee comunque ricche di potenziale eh o potenzialmente sviluppabili in cose interessanti perché semplicemente Square non è riuscita a tenere il passo coi tempi a portare avanti la sua serie principale in occidente con le nuove tecnologie non ce l'hanno fatta laddove invece con serie più classiciste tipo i Dragon Quest andavano avanti sereni con un team completamente separato che si faceva i cazzi suoi ovviamente quindi non aveva influenze esterne però insomma eh non hanno avuto problematiche di sorta è veramente delirante pensare a cosa è successo a Final Fantasy ma ripeto la fabola nuova Cristallis ok il 10-2 ok il 15 ci ha avuto tutte le tragedie che ci ha avuto c'è un altro gioco che volevamo citare anche se abbiamo detto più e più volte di non odiarlo perché comunque lo amiamo perché comunque lo riteniamo uno dei grandi Final Fantasy ci ha accompagnato durante la nostra infanzia è stato un gioco che ci ha trasmesso un sacco di belle cose ma è stato secondo noi in realtà il primo a mostrare dei difetti marcati che hanno fatto capire che una serie poliedrica come Final Fantasy dove in realtà si può prendere qualunque direzione in all'inseguimento dell'innovazione del cambio di formula però è molto difficile da gestire a livello di direzione proprio per questo suo concept che ti può portare a qualunque cosa riuscire a trovare sempre una direzione sensibile e funzionale non è facile che poi è anche quello che dicevo sul 13 cioè il 13 cercava in tutti i modi di riabbracciare il concept originale dei Final Fantasy e falliva miseramente perché era una scopiazzatura caotica di concept che poi in realtà non sono mai stati così precisi come loro credevano che fossero nel caso di questo Final Fantasy stiamo parlando ovviamente dell'otto Nomura's Creek come è stato rinominato anche se poi in realtà Nomura non è più colpevole non è dai re però fa ridere il fatto che lo chiami Nomura's Creek perché è profetico in un certo senso allora perché Final Fantasy 8 è qui perché secondo me Final Fantasy 8 e credo proprio anche secondo Aligi anzi come un po' diceva già prima Aligi mostra un po' il fianco il seme di alcuni problemi che in un certo senso poi andranno a contaminare la serie nel tempo secondo me il primo problema che mostra è l'occidentalizzazione della serie io ho scoperto andando a leggere un po' proprio in questi giorni che all'epoca della sua uscita Final Fantasy 8 soprattutto dalle prime immagini non piacque moltissimo ai giapponesi che poi lo comprarono comunque in massa infatti è uno dei giochi più venduti anche lì per la prima Playstation senza ombra di dubbio è stato il Final Fantasy più venduto al lancio ed è stato poi superato solo dal 13 quindi comunque un gioco chiamato molto bene e a cui comunque le persone sono rimaste affezionate ma questo gioco era estremamente occidentale tanto nella resa degli ambienti nel racconto quanto proprio nei personaggi perché essendo il primo Final Fantasy che utilizzava una grafica delle proporzioni c'era una ricerca del realismo questo realismo però era incredibilmente occidentale i personaggi hanno tutti fattezze comunque occidentali questa cosa dai giapponesi che erano abituati a cercare nei JRPG delle cose che in qualche modo fossero un incontro tra il videogioco e il manga non è che gli piacesse proprio tantissimo e mi ricordo di aver letto che alcuni giornalisti all'epoca sollevarono la questione di ma non è che questo gioco qua serve perché sperano di penetrare nel mercato occidentale e si dimenticheranno del mercato orientale purtroppo non è del tutto falso perché poi alla fine è un pochino quello che è successo perché Final Fantasy è diventata la loro serie di JRPG occidentale numero uno proprio quella che poi in realtà è stato il set quello a aprire il mercato occidentale però in realtà l'aveva fatto senza che loro ricercassero attivamente questa cosa nell'otto invece si vedeva proprio il tentativo moltissimo e quindi diciamo che questo in fondo era anche la cosa bella se vogliamo stilisticamente però è anche quello che ha un po' dato un trend negativo che poi nella serie è stato seguito quali sono i problemi secondo me di Final Fantasy 8 allora si potrebbe parlare magari dopo ne parliamo di quelli un po' tecnici però da un punto di vista che è quello che sapete tutti che mi sta molto a cuore dello storytelling è il primo Final Fantasy che inizia a guardare l'orologio e a dire se è fatta una certa tagliamo e questo purtroppo si nota tantissimo ma il problema è che si nota in tutto per esempio i personaggi di Final Fantasy 8 sono tutti degli studenti e infatti c'è questo world building molto bello che ruota attorno a queste accademie militari che tra l'altro sono vendute come una roba pucciosissima però alla fine sono dei mercenari che vanno ad ammazzare la gente tu sei lì ed è bellissimo questo tipo di world building è anche pensato molto bene perché unisce la quotidianità dello studente giapponese soprattutto perché sappiamo che per i giapponesi la scuola è tipo l'universo mondo e quindi è un Final Fantasy molto vicino alla quotidianità di chi lo gioca perché tu riesci a sentire questa cosa di andare in classe scrivere sul diario di classe i personaggi che si conoscono che hanno la cotta per l'insegnante cioè il preside tutte queste cose lo rendono familiare ma lo traghettano ovviamente in un contesto più fantasy più d'azione molto figo quindi in questo senso secondo me Final Fantasy 8 è riuscitissimo poi però c'è la narrativa il problema è che ci sono dei personaggi che sono tutti molto carini ma poi un po' buttati via cioè è in assoluto il primo Final Fantasy soprattutto di quelli grossi cioè quelli 4, 5, 6, 7 diciamo cioè quella risma lì che rinuncia completamente all'approfondimento di tutti i personaggi per concentrarsi su due o tre noi sappiamo tutto di due o tre personaggi e gli altri sono accennati magari anche bene però poi di fatto non c'è un vero approfondimento in alcuni momenti se la cavano comunque in altri diventa clamorosamente chiaro che non gliene fregava più niente di quel personaggio lì e la buttano via l'antagonista cioè ragazzi ma Cypher quanto è buttato via quel personaggio ma donna Cypher è proprio mamma mia quando compare poi tra l'altro te lo vendevano come il grande rivale di Squall epic e poi invece basata anche su Rinoa che quindi doveva esserci anche una sorta di triangolo amoroso tra questi tre e lei divisa tra Squall che è un po' più bravo ragazzo e Cypher che invece è ragazzaccio no Cypher sparisce a un certo punto è un coione che piglia botte ogni tot non si capisce mai veramente ti dicono perché lui ha il suo sogno però poi scopre che il suo sogno è una roba ridicola e poi alla fine nonostante sia un tipo sarebbe tecnicamente tipo un criminale di guerra ricercato internazionale tra l'allucci e vino a tutti cioè Edea Edea è un antagonista che sembra faccia con le prime volte che compare e ti tira sulla pelle tutto ma tutto cioè tutta la gestione di questa roba sembra che a un certo punto abbiano non so bene se la definizione è giusta ma sembra che a un certo punto fossero inventati due storie diverse e lei essere appiccicati con la co perché a un certo punto c'è proprio una divisione secca della narrativa che porta verso lì di completamente differenti con uno stacco che poi è quello dell'orfanotrofio che conosci benissimo che non possiamo spoilerare ma è una delle peggio porcate che ci sia nella storia delle trame di Final Fantasy da lì la trama si divide completamente va verso altre tematiche di altri personaggi e in realtà non funziona perché è una roba comunque che sembra buttata lì e appunto la problematica narrativa è già molto profonda per tutto quello che Eleonora ha appena detto per tutte le problematiche legate ai costrutti narrativi a come vengono portati avanti ma comunque tu non puoi non amarlo perché il gioco è ricco di momenti notevoli ha sempre comunque quello quell'anima da Final Fantasy quel peso di tutto quello che succede che ti rimane addosso però il mondo degli ambienti della misura delle streghe che è bellissima poteva essere sfruttata di più ma è bellissima assolutamente parliamoci io quando guardo il filmato introduttivo di Final Fantasy 8 ho ancora la pelle d'oca ma assolutamente poi c'è sempre quella colonna sonora ragazzi che santo vuoi mazzi cosa gli vuoi di Final Fantasy 8 con due che sembrano con la Gunblade che comunque era molto figa all'epoca e sotto liberi fatali cosa gli devi dire non gli puoi dire no io ho delle cose di una belle cioè io veramente ma idea ma cosa non era quando ti compariva idea le prime volte con quella colonna sonora in sottofondo quel design stranissimo quell'atmosfera rare fatta aveva un'atmosfera incredibile che è pazzesco che poi se la siano persa se la sono giocata si si se la sono giocata come è fatta che poi è che poi è un'assurdità perché poi ad esempio l'altra problematica è che è uno dei Final Fantasy peggio calcolati a livello di sistema in assoluto perché il sistema delle Junction concettualmente era anche carino ma l'applicazione è terribile le Junction sono completamente antisinergiche alla magia rendono la magia inutile tanto che non la usi perché la vuoi conservare per le Junction le Summon sono troppo forti Aura rompe completamente il gioco perché le limit lasciamo perdere è un gioco purtroppo calcolato male calcolato male in tanti elementi e il problema è che non è calcolato lì è calcolato male non per mancanze di tempo o cose varie è calcolato male proprio perché l'hanno calcolato male non c'era girarci attorno hanno fatto degli errori abbastanza significativi sia a livello di stesura della trama sia a livello di concept del gioco vero e proprio a dimostrazione che bravi erano bravi ma infallibili non erano infallibili comunque nonostante tutto questo io e Eleonora lo amiamo questo gioco cioè è impossibile non amare Final Fantasy 8 se sei cresciuto con i Final Fantasy perché comunque è un titolo che ha rappresentato per moltissime persone l'introduzione ai JRPG e il suo immaginario lo troviamo ancora straordinario infatti l'abbiamo citato perché comunque è uno dei Final Fantasy più fallati in circolazione e su quello non ci piove assolutamente è stato uno dei primi veramente fallati però è comunque un Final Fantasy a cui vogliamo ancora bene posso dire che è un Final Fantasy che tra l'altro avrebbe dovuto così tanto viaggiare nel tempo leggere le teorie dei fan tornare indietro e modificarsi e rifare una piccata pazzesca certo c'erano un paio di teorie fantastiche sulla reale sulla reale identità di certi personaggi che erano veramente coprivano tutti i buchi di trama e la cosa migliore è che quando i fan gli hanno chiesto se non ero al director se era così oppure no la risposta è stata no non è così che lì è stata proprio la risposta più scema che potevi dare perché potevi fingere di aver avuto un masterplan incredibile e invece ti sei giocato proprio la possibilità di dire sì era sempre stata la mia idea quando in realtà ovviamente non era così questa è la prova che quando si usa il termine ah è una fanfiction in modo dispregiativo si sbaglia perché queste cose invece sono state scritte in molte fanfiction molto belle che di fatto hanno aggiustato il gioco ragazzi ma è vero però va detto che sono rare le fanfiction bisogna sempre dire brutte fanfiction cioè specificiamo quelle brutte bisogna sempre specificare brutte fanfiction perché non è che non esistono le fanfiction belle i finali alternativi e le modifiche alla trama di fanfantasy 8 erano fanfiction belle faccio ridere Aligi prima di scusa passare oltre perché ci sta ho letto una recensione dell'epoca di un critico americano che diceva che il problema del sistema di combattimento di fanfantasy 8 era che era troppo complicato vabbè vabbè io non credo che tu mi segua live ma sappi che la mia opinione sulla critica di videogiochi americana non è cambiata negli anni è sempre stata atroce ma ti assicuro che in questi anni dove comunque sono il peggio del peggio del peggio sono spanne sopra come stavano ai tempi di fare quindi comunque guarda lascia passare tutto perché quello era proprio il far west cioè io ricordo addirittura delle recensioni in uno dei primi sparatutto con l'analogico destro utilizzato per mirare con il redattore che diceva chiaro e tondo questo sistema è anti intuitivo e non funzionerà mai oggi nel 2020 l'analogico destro che non funziona con la telecamera è inconcepibile per la serie ho scommesso ho fatto all in e ho buttato tutto nel cesso e ho tirato lo sciacquolo è proprio quella cosa lì quindi lasciamo molto perdere perché è veramente ci sarebbe da raccontare per ore e noi siamo andati avanti ovviamente tantissimo per questo podcast anche oggi vi si vuole un sacco bene speriamo di non avervi trasmesso troppa negatività ma comunque come vi abbiamo detto parliamo di Final Fantasy sempre con affetto anche quando comunque ci hanno turbato psicologicamente dipendentemente da tutto quindi vogliamo bene anche ai peggiori cioè non è che sono giochi che odiamo in realtà sono giochi che purtroppo all'interno di una serie che amiamo ci hanno deluso profondamente per un motivo o per un altro e tra l'altro potremmo andare veramente avanti tre ore in realtà a spiegare nel dettaglio per ogni singolo gioco quali sono i problemi siamo stati i più riassuntivi possibile che mi fa capire molte cose anche perché il buon Matteo Scandolin di Querti che poi sistemerà queste tracce ci sarà grato se non andremo oltre le 12 ore come al solito le 12 ore esattamente ci arriveranno dei messaggi vocali interessanti dopo sicuramente comunque speriamo che questo tentativo con Zencastr sia meglio di quello dell'altra volta che via mobile purtroppo qualitativamente non si è rivelato propriamente una bomba questo dovrebbe avere una qualità audio migliore ragazzi non è una qualità audio secondo noi sufficiente comunque per fare i podcast delle puntate principali che ritorneranno non appena tutto sto casino del coronavirus si concluderà ve lo ricordiamo ve l'abbiamo promesso lo porteremo a termine il podcast ve lo giuriamo però adesso siamo un po' impossibilitati per il resto io ringrazio sempre la carissima Eleonora che è qua con me a sentire tutte le mie minchiate e a parlarne con me per ore e ore e ore sui Final Fantasy grazie mille Ele ma ciao grazie a te e niente ci vediamo alla prossima puntata ragazzi speriamo vi siate divertiti e molto amore a tutti un bacione ciao ciao ciao